La birra di oggi è francese, si tratta della birre du démon. Allora, vediamo subito la scheda tecnica di questa birra. Dicevamo appunto, siamo in Francia, la Brasseur de Gaillane. Il nome di questa birra è la birre du démon, è una... Allora, sullo stile c'è un po' di difficoltà, perché ho cercato online e, per esempio, su Raid Beer viene indicata come Imperial Pills. Quindi una Pills con una gradazione alcolica appunto più elevata rispetto allo standard. Questo appunto sa significare l'aggettivo Imperial. Mentre su Untapped, e qui è stata abbastanza comica la scoperta, è indicata come Lager Eurostrong. Termine che non ho mai sentito, non credo esista nemmeno nel BJCP, la terminologia Eurostrong, che però mi fa molto ridere, mi fa pensare a qualche lottatore di Vreste in tedesco, qualcosa del genere. Comunque, Eurostrong perché appunto è una bassa fermentazione, quindi di ispirazione diciamo cieca, come le Pills, ma con una gradazione alcolica elevata, perché infatti ha 12 gradi questa birra. Costo della bottiglia da 25 centilitri, quindi una bottiglietta piccola. L'ho acquistata in un cash and carry a 2,25 euro. E si tratta di un primo assaggio. Conoscevo già questa birra, non mi ha mai ispirato, devo dire la verità. Un po' perché forse l'associo a, un po' mi vergogno dirlo, ma alla tristemente famosa Tannens, ossia quelle tipologie di birre tipicamente Lager, prodotte e diventate famose all'interno di un pubblico che le beve semplicemente per l'elevato tasso alcolico e non ovviamente per il gusto poi di queste birre. Comunque appunto mi era già capitato di vedere e di sentire terminare questa birra, ma non l'avevo mai, non l'ho mai assaggiata prima di oggi. Per quanto riguarda l'estetica, beh, devo dire che l'estetica effettivamente è molto molto bella di questa bottiglia. Sul tappo è presente un disegno con tre spighe d'orzo e due fiori di luppolo. Tutta la bottiglia è sliverata, cioè ha questa sleeve, che è questa etichetta completamente aderente alla bottiglia, su tutto il corpo della bottiglia, tranne ovviamente il fondo e il tappo. E sopra questa sleeve poi ci sono altre tre etichette. Ovviamente superiore, c'è solo il nome e ovviamente in risalto viene messo continuamente il grado alcolico elevato, che è la cosa su cui ovviamente puntano i produttori di questa bottiglia, sicuramente non sul dry hopping o su tecniche magari particolari di fermentazione. C'è la grafica che riporta ancora il nome, frontalmente riporta ancora il nome, l'immagine di questa statua. Nelle vecchie bottiglie la statua era intera, mentre qua c'è solo un particolare sul volto. E appunto ancora il grado alcolico, idem sul retro. Passiamo ora quindi alla degustazione. Ah, il bicchiere appunto consigliato è una pinta, non l'ho indicato prima nella scheda, mi sono dimenticato. Comunque è una pinta, in questo caso è una pinta piccola, però è da 25 cl, quindi dovrebbe starci perfettamente questa birra. Fa pochissima schiuma, proviamo a fare una spillatura un po'. La schiuma si smonta completamente, non riusciamo nemmeno a fare un servizio diciamo alla tedesca con una mescita in tre colpi o due colpi più uno. E' davvero poco carbonata questa birra, infatti ha fatto pochissima schiuma. Mi viene, ammetto forse un po' maliziosa come pensiero, ma mi viene da pensare che uno dei motivi potrebbe essere il fatto che Conoscendo il tipo di pubblico a cui immagino si rivolga questa birra potrebbe essere un tipo di pubblico che faccia quella cosa illegale, ossia bere dalla bottiglia. E quindi una birra poco carbonata potrebbe rendere più facile la bevuta dalla bottiglia. Cosa che non avrebbe mai fatta, soprattutto su birre molto frizzanti come le laghere industriali che sono molto frizzanti, Quindi andrebbero versate per rompere un po' l'intrida carbonica all'interno, cosa che di solito non viene fatta e bevendo dalla bottiglia si crea solo schiuma e si finisce col bere schiuma. Comunque, a di là di queste piccole riflessioni su tematiche horror come bere le birre industriali dalla bottiglia, Per quanto riguarda l'analisi di questa birra, allora la schiuma è poco persistente, abbastanza irregolare, di un color bianco, bianco direi. La birra è un giallo molto chiaro, abbastanza luminosa come devono essere le pills, abbastanza limpida devo dire. Tutto sommato si vede una leggerissima carbonazione. Passiamo al naso. Allora, l'intensità olfattiva al naso è praticamente nulla. Si avverte leggermente forse un lupolo erbaceo, ma è davvero davvero nulla l'intensità olfattiva. Vediamo in bocca. Allora, che dire, è particolare in bocca? C'è sicuramente un'apertura dolce, ma eccessivamente dolce probabilmente, e la dolcezza è amplificata anche dall'alcol. Cosa interessante, non arriva il lupolo, probabilmente si sono dimenticati di inserirlo. No, scherzi a parte, il lupolo è davvero poco poco presente, non c'è il classico finale amaro. È una birra al mais, quindi immaginate una spremuta di mais, come la gran parte delle birre commerciali, a cui viene aggiunto poi parecchio alcol. E infatti viene aggiunto anche del glucosio. Infatti non l'avevo controllato prima negli ingredienti. Pensate che addirittura gli ingredienti, che sono elencati in ordine decrescente di quantità, infatti dopo un po' c'è l'acqua, che è la componente maggiore, barley, malt, quindi il malto d'orzo, corn, quindi mais, glucosio e aplomb. Quindi a livello di quantità c'è più e maggiore la quantità di zucchero rispetto alla quantità di lupolo. Questo è il motivo per cui non si sente praticamente questo amaro, ma si sente, cioè si sente poco amaro, ma si sente ovviamente tanto l'alcol e si sente tanto questo dolce. Quando si parla di birre, mi viene in mente che spesso si parla di birre bilanciate o equilibrate e spesso sì, ci si riferisce a birre dove le diverse componenti che fanno parte poi della birra sono appunto un equilibrio tra loro, nel senso che una non sovrasta per intensità l'altra andandola a rovinare o a interferire. Molte delle birre, soprattutto birre di un certo livello, sono delle birre bilanciate. Un buon esempio potrebbe essere, per assaggiare delle birre sbilanciate, potrebbe essere bere questa. Questo è un perfetto esempio di birra non equilibrata, perché effettivamente l'alcol si sente tanto, è invasivo, continua a sentirlo ancora ed è fastidioso perché va a coprire tutto il resto. Il dolce a inizio bevuta prima ancora di percepire l'alcol è davvero un dolce stucchevole e quindi questo potrebbe essere un bel esempio di birra sbilanciata. Non esiste un amaro e quindi l'apertura dolce tipica delle birre con una buona quantità di malto viene poi compensata ed equilibrata appunto da un finale più amaricante. In questo caso manca l'amaro sul finale, è troppo il dolce, quindi è completamente squilibrata questa birra. E' vero, avevo già molti pregiudizi, sono stati più o meno confermati. Può essere un buon motivo per introdurre un po' di alcol nel proprio corpo, però boh, si avrei speso diversamente. Cioè se devo introdurre questi stessi grammi di alcol, li preferirei introdurre in altro modo magari con un buon whisky o con uno scotch, nel senso che non è probabilmente il migliore dei prodotti. Comunque andava assaggiata anche solo per ampliare la quantità di birre degustate e quindi ho pensato di fare il video per la prima volta che, e credo ultima, che assaggerò questa birre du de monde. Scala! 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 Grazie per la visione!